Jesse? Ehi. Non voglio che Ron e Sam vengano a saperlo. Beh, il tuo segreto è al sicuro. Noah era un ragazzo dolce. Ma Tara, lei... Lei è in buone mani con Pete. Ti picchia. Ti fa del male. Questo deve finire. Finirà. Come? Gli sono successe delle cose nella vita. Non mi... non mi interessa. Senti, è già accaduto in passato e lui si è fatto aiutare. L'ho aiutato io. Ed è andato tutto bene. Posso sistemare tutto? No, non puoi. Ma io sì. No, cosa... cosa puoi fare? Cosa hai intenzione di fare? Vuoi metterlo in galera? Peggiorerai la situazione. Peggiorerai la situazione. La situazione sarà peggiorata... ...quando ti avrà uccisa. È questo che succederà. E io non... non permetterò che accada. Perchè ci tieni tanto? Perchè è così importante? Finalmente adesso ce l'hai fatta. Hai... hai una casa per i tuoi figli. Rick, che stai facendo? Sto cercando di aiutarti. Non ne sono sicura. Io sono sposata. Ok, io so badare a me stessa. Dobbiamo badare a noi stessi. Ok, qui sta facendo. Ok... Ok... Ok. Ok... Ok. 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 Grazie a tutti.